Musica Musica Amici di Media Boarding, salve a tutti. Welcome to our friends around the world. We are in Pisa, in the earth of Toscani, in the earth of Italy for the most magical night of the year. The night of Saranieri, with 100.000 lights along the river Arno, along the buildings on the river Arno, for the very magical time to see, to view, to hear, for everything. Come dicevo, questa si tratta di una tradizione nata oltre quasi 400 anni fa, nel 1688. Sono 100.000 lumini circa, lumini veri, cioè non elettrici ma con di cera, delle vere e proprie candele, che vengono poste lungo gli edifici, lungo il fiume Arno, e celebrano, ricordano, il momento in cui la salma di Saranieri fu trasportata da una vecchia location a quella attuale, che è poi il Duomo di Pisa, proprio davanti alla Torre Pendente. It's the most magical night of the year, the San Ranieri night, but it's impossible to skip in Pisa the most important part of the town. Maricolo Square, piazza di miracoli, with the dome, with the battistero, with the lining tower, la famosa Torre Pendente. Come dicevo appunto in inglese, lo ripeto per i nostri amici italiani, è impossibile, anche se la notte più bella dell'anno, quella di San Ranieri, è la notte più magica, è impossibile saltare una tappa davanti alla piazza di miracoli, quindi al battistero, al Duomo e alla famosa Torre Pendente, che vedete anche alle mie spalle. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa magnifica notte pisana, spero che in qualche modo vi siate divertiti. A noi non resta quindi che darvi appuntamento alla prossima occasione. Mi raccomando, iscrivetevi, consultate il nostro sito www.imediaboarding.it o il canale YouTube iMedia Boarding, su cui potete vedere questo e tanti altri filmati. That's all for us. Di me, a me, a me, a me, a me, a me. Wow! Wow!